Nella centrifuga dell'inchiesta Lavajato in Brasile finisce anche l'ex ministro delle finanze Guido Mantega, già membro dei governi di Lula e Dilma Rousseff. Mantega è stato prelevato dalla polizia all'ospedale dove assisteva la moglie gravemente malata. L'arresto in queste circostanze ha suscitato polemiche che hanno portato al rilascio del politico accusato di coinvolgimento nello scandalo fondi neri della Petrobras. L'arresto dell'ex ministro Mantega, dice il procuratore Lima, fa riferimento a una sua richiesta al faccendiere Aike Bacista di 5 milioni di reais per il pagamento dei debiti della campagna elettorale. Bacista, controverso uomo d'affari brasiliano, avrebbe dunque finanziato il partito dei lavoratori per l'equivalente di 2,3 milioni di euro, sollecitato dall'ex ministro fedelissimo di Lula da Silva, che secondo gli inquirenti sarebbe coinvolto anche nell'appalto concesso da Petrobras a imprese non qualificate per la costruzione di due piattaforme petrolifere in acque molto profonde.